capacità di sciogliermi un po' e di godermi un po' la vita con meno piani, con meno aspettative, con meno previsioni. Basta solo a volte vivere, basta solo a volte seguire l'istinto e ciò che si ha voglia di fare. Non potrei essere più grato a Martine, Raphael e Marie-Cécile per le persone che sono state con me, per quello che mi hanno veramente lasciato, perché è con loro che inizio a fare le prime gite fuori porta, è con loro che prendiamo le macchine e cominciamo ad esplorare un po' i dintorni, è con loro che campeggerò per la prima volta in Nuova Zelanda. Sono loro le mie prime amiche, è con loro che piango dopo aver trascorso il mio compleanno pulendo per tre ore i cessi al mattino e per sette otto ore i piatti di un ristorante alla sera e quando rientro all'ostello coperto di organico, quando mi rendo conto che veramente non sta andando come volevo, come speravo con l'esperienza, che ormai un mese e mezzo che io sono in Nuova Zelanda e nulla sembra andare per il verso giusto, sono loro ad accogliere quella mia disperazione e sono loro l'indomani a prepararmi una festa a sorpresa per celebrarlo anche se con un giorno di ritardo, comunque in un modo molto più pulito e decente quel compleanno. E sarà proprio il giorno del mio compleanno, il giorno della svolta, il giorno in cui finalmente qualche buona notizia comincerà ad arrivare. Ma di questo vi parlerò la prossima settimana. Ciao!